Riccardo, di 9 anni. Ciao, mi sono andati a giocare qui. È una scommessa? È una scommessa, proprio così, proprio nella prima famiglia, quindi con i miei figli e il marito, ma poi mamma e suocere impazziscono per Fabrizio Frizzi. È una scommessa aperta anche con suocere, quindi è la mia famiglia. Chi va, chi va? La Caterina, quindi. A cui hai risolto il problema della scommessa? Un po' di risolto, un po' di risolto, un po' di risolto, un po' di risolto. Qui c'è la canzone di Ferro che ci fa soffrire. Quale sarà la parola? Abitudine. Abitudine, ti piacerebbe? No, non è abitudine, è un errore anche per Caterina. Gaetano! Ciao, io sono Fabrizio Frizzi. Gaetano D'Ambrosio, da Somma Misuriana, provincia di Napoli. Tu sei agente di polizia locale, vero? Sì, sono agente di polizia locale, tutto a piano, qui è un paesino vicino a quello dove risiedo. Quindi conosci quasi tutti dei potenti? È un paesino ma non tanto piccolo, sono 25.000 abitanti. Qualcuno ti manca? Qualcuno sì, qualcuno ancora me lo hanno fatto. Sei fidanzato? Sono fidanzato con la splendida Maria da circa un anno e approfitto per chiederle scusa perché lei non è potuta venire qui e quindi ho avuto un piccolo... No, non è un paesino? Non è un paesino. Grazie.